che per intende c'era una sorta di Mr. Maru, molto tenero e anche un po' stordito all'immagine molto rock e roll di Vasco Rossi. Vasco Rossi confirma il fatto che non basta nascere lo stesso giorno per avere le stesse caratteristiche di un altro personaggio. Ti faccio un altro esempio. Io sono nato lo stesso giorno di Maragona. Non mese, non anno, anno no. Però 30 ottobre, come Maragona? Beh, abitudini diverse. Abitudini diverse, bravo, stili di vita diverse e anche con i piedi, francamente, non è che era la stessa. Quindi mi vuoi dire che il loro tubo non è affidabile?